Il 7 marzo 2026 a Vicenza inizierà ufficialmente l'anno giubilare Mariano. In città sono attesi oltre un milione di pellegrini. Per accoglierli adeguatamente al santuario di Monte Berico è stato oggi ufficialmente stipulato un accordo quadro regionale tra i principali enti civili e religiosi, un modo per favorire il turismo religioso e culturale in sinergia col territorio in occasione di un evento storico per la città berica. Il giubileo che mi aspetto è quello di ritrovare forza e vitalità nelle nostre comunità. Le parrocchie hanno subito un grande cambiamento, ma che anche secondo la logica di un cambiamento sociale e culturale abbiamo bisogno di riscoprire in maniera nuova come poter vivere l'esperienza del Vangelo, l'esperienza cristiana dentro a questo mondo. Accennavo al fatto che ci siano comunità aperte, capaci di interloquire con tutti. Un evento che seguirà il giubileo romano del 2025. Vicenza dovrà trovarsi preparata ad accogliere i pellegrini provenienti da tutto il mondo che sceglieranno di prolungare la loro permanenza in Italia. Un'opportunità da accogliere per porre le basi di una rinascita, non solo spirituale, ma anche di ripresa sociale ed economica per tutto il Vicentino. È un accordo quadro che vuole organizzare tutte le attività di questo seicentesimo, che vuol dire per esempio pensare a nuovi cammini, che in questo tempo sono molto di moda, se vogliamo, raccolgono molti appassionati, anche laici, non soltanto pellegrini, ma chiaramente con un pensiero per tutti i pellegrini, cioè chi viene qui per motivi spirituali, ma poi convegni, iniziative, mostre, attività. Quindi rendere questo luogo ancora più vivo di quanto non sia, ancora più simbolico per i Veneti e i Vicentini di quanto non sia già. È un appuntamento straordinario. Le celebrazioni verranno preparate di volta in volta, è per aprirci a un qualcosa che riempie la nostra vita, la apre alla bellezza, dona la pace e la speranza.